La corrispondenza più univoca che esiste tra Teramo e la sua coppa va rimarcata nel senso più profondo che ci ha mosso per l'organizzazione di questo cinquantennale e per la ripartenza della coppa. Fin dal più nuovo momento, fin dalla prima fase in cui il precedente comitato organizzatore ho cominciato il comitato organizzatore che ha seguito la cavia a Donetti che saluto, ha iniziato il percorso e poi abbiamo portato avanti, tenendo fuori anche il momento elettorale da qualsiasi interferenza con la coppa. Come amministrazione comunale siamo andati avanti, abbiamo pianificato, abbiamo programmato e poi dopo le elezioni abbiamo proseguito in modo intenso l'organizzazione vera, concreta, fattiva che oggi presentiamo con il programma con Angelo Renucetti, con il Presidente del Comitato e sempre con la guida di Gigi Montauti che la città, che oggi ha l'onore di governare, di amministrare ancora come sindaco e non finirà mai di ringraziare. Così come non finirà mai di ringraziare per questa iniziativa d'armi nel gruppo che ha aiutato e ha supportato valorizzando il rapporto tra Teramo e la sua coppa e soprattutto la necessità di uscire dai nostri confini perché la coppa porta con sé proprio l'apertura al mondo e l'apertura a tutto il territorio nazionale e la presenza del ministro andrà a consacrare ovviamente questo valore straordinario.